Il mino. Il mino? Sì. Posso prendere il vintaglio quando lei... Prego, prego. No, mi metto di qui. Ah, ok, per te. Bene. Sì, ora. Sì, ora. Sì, ora. Non ero sicuro se non era uscito lo slalom, nessuno mi ha detto niente, continuavo. Non era uscito? Non ero sicuro. Ecco, guarda. Dopo, ecco, vuole che si era fatto da venire. Questo su TV, non so, guarda. L'ho tirato, ma... In questo dubbio lui non potrebbe girarsi verso il giudice, se il giudice, se lo guardi... Se lo guardi... Va bene, ma appena fatto il... Bravo!